Il mercato sta entrando nella parte stretta dell'imbuto, con la finestra che sta inesorabilmente arrivando al suo termine. Sono quei giorni in cui si valutano le ultime offerte, si sondano le possibili occasioni ed emergono quegli scenari che magari nelle settimane precedenti non si erano nemmeno considerati. Il punto principale di questo finale di mercato è legato alla questione Nequen-Perez. L'assenza all'allenamento aperto non è di certo sfuggita agli oltre mille tifosi arrivati al Bruseschi, ma l'argentino ha semplicemente svolto una seduta di scarico personalizzata dopo il finale di gara contro la Lazio in cui è accusato fastidiosi crampi. Detto questo, ovviamente l'interesse del Porto c'è, ma la situazione sembra abbastanza chiara. Ci vogliono due fattori per far sì che l'affare si faccia, ovvero che i dragoni portoghesi alzino l'offerta, e non di poco anche perché nella trattativa è coinvolto indirettamente l'Atletico Madrid, e che l'Udinese trovi un sostituto all'altezza. Difficile arrivare a Modibosagnan, si pensa sempre ai due classe 2003, l'argentino Marco di Cesare, l'olandese Finn van Bremen, già cercato un anno fa. Il difensore del Basilea resta sul tacquino di Gino Pozzo e potrebbe essere l'identikit ideale visto che è anche di piede mancino. Stando a quanto spesso riportato da Nani, non è da escludere che in caso di cessione di Perez però i bianconeri possano chiudere entrambe le operazioni per avere un reparto difensivo completo, che permetta ai bossè di recuperare con tutta la calma possibile, e a Matteo Palma, classe 2008, di crescere con tranquillità. Centrocampo e attacco sono da considerarsi a posto, salvo eventuali scossoni che non si vedono all'orizzonte e l'attenzione si sposta sulla fascia destra. In arrivo Rui Modesto, portoghese di origine angolana e classe 1999, che arriverà per un milione e mezzo dall'Aikap a Solna. L'Udinese sta cercando di piazzare in prestito Esteves e valuta la cessione di Ebosele, mentre Isibue dovrebbe restare nonostante la corte serrata del Colonia. Per l'esterno irlandese, in prima linea c'è il Rams, ma alla finestra sempre il Galatasaray, oltre che qualche club di championship, anche se il ragazzo non vorrebbe tornare al momento nella B inglese, anche se è un'opzione che viene valutata. Giorni intensi di riflessione che porteranno alla chiusura del mercato e Rui Modesto a lavorare sulla rosa definitiva, almeno fino al prossimo gennaio.